... Bentrovati, nuova edizione in diretta di TR24 Sport. Partiamo subito occupandoci di calcio. Scalpita e non vede l'ora di iniziare l'esperienza al Bologna. Federico Mattiello, il nuovo esterno di centrocampo che costituirà una tassella fondamentale nello scacchiere di Pippo Inzaghi. Sentiamo allora le sue prime parole da giocatore rosso-blu nel servizio. Un passato da tennista, poi la decisa virata sul calcio. Scelta giusta, visti i risultati. La duttiltà è una delle caratteristiche distintive di Federico Mattiello, ultimo arrivato alla corte di Filippo Inzaghi. Duttile lo è perché può interpretare indifferentemente i ruoli di esterno-destro e sinistro di centrocampo. Io sono disponibile a qualsiasi ruolo, a qualsiasi posizione. I primi calci al Val d'Ottavo, poi quattordicenne, ecco palesarsi la chiamata della Juventus e cinque anni dopo Mattiello è già pronto per l'esordio in Serie A. Nel presente a Bologna, il ventitrenne nativo di Barga, cerca la definitiva consacrazione e dopo la stagione alla Spal si sente pronto per una nuova grande sfida. Il Bologna mi ha voluto fortemente, quindi sono contento di essere qui, anche perché è vero che è durata un mesetto la trattativa e quindi ora che sono qui non vedo l'ora di iniziare con i compagni. Sto bene, ovvio che avendo saltato la prima parte di preparazione devo ancora mettere su qualcosina, ma sto bene, fisicamente sono a posto, quindi sono sicuro che nel giro di breve sarò a livello dei compagni. Equilibrio e compattezza del gruppo nel quale si è da poco inserito sono elementi fondamentali che Mattiello ha già avuto modo di apprezzare nei suoi nuovi compagni di squadra, già supportati dal calore di una tifoseria salita in massa nel ritiro di Pinzolo. Vedo molto entusiasmo nell'ambiente, a partire dai ragazzi a tutta la società, quindi c'è voglia di fare bene e io per primo vorrò fare una grande stagione, quindi non vedo l'ora, ripeto, di iniziare, sono carico a mille. Nuovi dettagli intanto emergono sul progetto di ripartenza della Cesena avanzato dalla cordata locale che quest'oggi potrebbe anche incassare il definitivo sì da parte del sindaco Lucchi. Quattro autentiche icone del cavalluccio potrebbero farne parte, andando a comporre una spina dorsale che in serie D avrebbe pochi uguali. I nomi sono quelli usciti sui media nei giorni scorsi e rappresentano quattro quarti di novità calcistica in una piazza come quella di Cesena. Si va da Federico Agliardi a De Manuel Cascione passando per Beppe De Feudis e Davide Biondini col conte di Bollate in uscita dall'Arezzo e il rosso di Montiano svincolatosi dal Sassuolo. Quattro giocatori che hanno la maglia bianconera tatuata sulla pelle e che potrebbero dare eccellenti garanzie per una ripartenza in grande stile del Cesena in serie D. Ma intanto si chiude la prima settimana di ritiro per Ravenna e Rimini, intenti a preparare il prossimo campionato di serie C. Hanno svolto una prima sgambati giallorossi ieri, che hanno superato una selezione di dilettanti con nove reti. In calendario gli uomini di Foschi hanno poi in programma altri due test. Il primo mercoledì a Fiumalbo di Modena contro il Livorno neopromosso in B, il secondo col Cervia sabato 28 a Milano Marittima. I biancorossi invece sono reduci dalla vittoria domenicale sui giovani del Cluj, squadra rumena, con la punteggio di 3 a 1. Giovedì sera sarà poi affrontata una rappresentativa locale di Sant'Agata Feltria, sede del ritiro degli uomini di Righetti. Ma cambiamo adesso argomento, parliamo di tennis, una finale morta sul nascere, la sfida tra Stefania Rubini e Sherazad Reix per il titolo degli internazionali di Imola. La francese è stata immediatamente costretta ad arrendersi vittima di un problema muscolare, spianando così la strada al successo dell'Azzurra. Sentiamo. 8 minuti. Tanto, o per meglio dire poco, è durata la finale femminile dell'internazionale di Imola, ospitati dall'Otozona Tennis Park. La sfida tra le prime due teste di serie, rispettivamente la Reix e la Rubini, è stata infatti bruscamente interrotta sul 2 a 0 del primo set, in favore della Bolognese, complice a un infortunio muscolare occorso alla francese, costretta a stringere, in lacrime, la mano anzitempo all'avversaria. Alla sua seconda finale consecutiva in terra imolese, la Rubini ha così scritto il suo nome nell'albo d'oro, non senza nascondere però la delusione per non aver potuto onorare sul campo l'impegno. Purtroppo è andata così, nello sport capita, ovviamente io ho voglia di giocare, c'era il pubblico, c'erano tante persone e ero emozionata e volevo comunque emozionare le persone che sono venute a vedere, con una bella finale, purtroppo è andata così, ma appunto capita. Sì, la settimana è andata molto bene, le partite precedenti sono andate bene, ho giocato un bel livello, quindi sono contenta di questo, spero di portarlo avanti per i prossimi tornei. Ospite d'onore della serata conclusiva, Nicola Pietrangeli, che ha ricevuto il premio intitolato Domenico Dadina, storico dirigente dell'ufficio sport del comune di Imola. Io sono venuto qua, è la prima volta che vengo al torneo e ho visto un entusiasmo che è quello che serve. Tre anni sugli scudi all'ippodromo del Savio con il clou del premio Woodstock che non ha deluso le aspettative. Scopriamo allora come è andato a finire nel servizio. Serata del sabato, ricca di prove qualitative, con soggetti di classe e top driver ad impreziosire il convegno. Cartellone di primordine sul quale spiccava la sesta corsa, un miglio per eccellenti tre anni, che aveva nelle frequentatrici classiche Zimwise AS, Zelda Zacca, le attrazioni tecniche ed in Zipris una concreta alternativa in ottica vittoria. La partenza della sesta corsa, evento centrale dell'undicesima serata all'ippodromo del Savio di Cesena, è stata al Fulmicotone ed ha visto subito la lotta fra Zipris e Zimwise per la leadership, con Zipris che è passata di prepotenza sull'avversaria, mentre Zoharas Club e Zia Memecla seguivano qualche lunghessa, lasciando in coda Zorban Grad, Zeyla Zacca e Zeno Tab. Il tentativo della battistrada di mantenere bassa l'andatura, sempre pedinata dalla favorita, con i tentativi esterni di Zorban Grad a costringere l'allieva di Casillo ad un'accelerazione improvvisa, con Zimwise all'ostecato e Zia Memecla a largo. Poi Zorbas e gli altri leggermente discosti e quindi l'ingresso in arrivo con la volata vinta da Zinwise a esse con Alessandro Gocciadoro che ha preceduto Zeno Tab e Zoharas Club, rispettivamente guidati da Gianni Tarchetta e Roberto Andreghetti. Ora le luci si riapriranno martedì con un'attrice, con quartè e quintè. Il nuovo Rimini piace, il Clus si inchina, così titola il Corriere di Romagna. La squadra di Righetti vince contro i rumeni la prima amichevole stagionale. A Sant'Agata Feltria vanno a Bersaglio i nuovi acquisti Venturini, Battistini e Volpe. Ma per quanto riguarda invece il resto del Carlino si parla dell'epilogo amaro per la Ferrari del Gran Premio di Germania. Furie Rosse con Fettel che va fuori e regala vittoria e primato nel Mondiale a Hamilton. Ma Lewis taglia la pista e i giudici lo assolvono. Passiamo però adesso a ascoltare anche l'opinione di Luciano Poggi. Ora le buste sono state aperte però ancora ovviamente non si sa quale sarà il destino della Cesena calcistica. O per meno o meno si può comunque ipotizzare, essendo le offerte quelle che non riguardano la fase portata avanti da Publisole. Parlo di fase portata avanti, notate questo. Le offerte sono arrivate e saranno esaminate. Però, come detto, ce n'è solo una che parte da un accordato a Cesenate. E quindi è forse immaginabile che la scelta andrà proprio su questo, anche per mantenere in un certo senso una identità. Però è vero che nasce sì una nuova società che avrà lo scopo di portare l'infa vitale al Martorano. Perché ormai dovrebbe essere questo il destino, partire con il Martorano per partire appunto dalla Serie D. Perché altrimenti, la federazione ha parlato chiaro, si sarebbe partiti dall'eccellenza. E adesso, a questo punto, aspettiamo che arrivi il sì e poi tutto ripartirà. È tutto allora per quanto riguarda questa edizione di TR24 Sport. Vi ricordo che comunque potete rivedere i servizi andati in onda cliccando sul portale tr24.it. Vi ringrazio per la cortese attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti.